Un bambino a cui non piaceva giocare al nascondino, ecco Cosero, che passava ore intera e chiuso nel bagno ad inventare storie nella sua mente e a riderne e a piangerne in ugual misura, tristemente ma senza alcuna forma di tristezza. Vedi, nella vita, ossia clienti o commercianti, ora per i clienti è giunto il momento di fregare i commercianti, ecco. Quando avrai capito questo avrai capito tutto. Grazie a tutti.